Abbiamo visto dunque i meccanismi di deflusso ortoniano e di deflusso duniano. Per fissare ancora di più le idee, quello che possiamo fare è andare ad analizzarli da un punto di vista semplificato, come vedete in seguito. Rispetto alla tabella che avevamo disegnato prima, se noi volessimo costruire una tavola delle decisioni, potremmo dire ma la precipitazione supera la capacità di infiltrazione? Se sì, ho infiltrazioni di tipo ortoniano, se no invece ho infiltrazioni di tipo duniano. Come funziona schematicamente il deflusso di tipo ortoniano? Ricordiamoci intanto alcune definizioni. Il flusso superficiale è un'area per una velocità e l'area per la velocità è metri quadri per metri quadri al secondo e metri cubi al secondo che è una portata. L'area in questo caso che cos'è? Il flusso in che direzione avviene? Intanto il flusso di ruscellamento avviene in direzione ortogonale a quella uscendo dalla slide verso di voi. L'area in questo caso di lunghezza B è di altezza di H, dove di H è il tirante del ponding, cioè quant'è il ponding che si viene a generare. Avevamo visto per esempio delle simulazioni in precedenza che ci dicevano che di H può essere, non so, due centimetri. Mentre B dipende dalla forzione di versante che noi consideriamo. Potrebbe essere alcuni metri, per esempio. La velocità con cui quest'acqua si muove è U con H in direzione ortogonale alla rappresentazione. Quindi il flusso superficiale sarebbe U con H per B per DH in metri cubi al secondo. Invece il flusso superficiale che cosa sarebbe? Il flusso superficiale intanto avviene in condizioni sature. Possiamo assumere che laddove il suolo è insaturo non avvenga o quasi, come prima approssimazione, non avvenga o quasi movimento, perché possiamo pensare, per esempio, che in questo tipo di suolo la variazione della conducibilità idraulica con il contenuto d'acqua di suolo è molto elevata, per cui laddove è saturo l'acqua si muove, laddove non è saturo l'acqua non si muove. Quindi nella parte bianca di altezza H l'acqua è presente in forma insatura e non si muove, praticamente, non si muove molto lentamente. Nello spessore D star, però, l'acqua si muove come generando una portata che è B per D star, che è l'area della sezione, per una certa velocità che è la velocità apparente, in questo caso la velocità di Darcy, che è K con S per il gradiente di DH, dove il gradiente di DH è il gradiente della... E il gradiente di DH è il gradiente della superficie liquida. Questo a sua volta è uguale a KS per D star per B, per il gradiente della superficie liquida che si viene a formare superiore, può essere identificato con θ, z, che vedete il gradiente di z, dove z è quello sbirgolino che vedete segnato, attaccato al gradiente che è una lettera greca e che rappresenta in questo caso il gradiente della superficie del suolo, non il gradiente della superficie liquida che si viene a generare. Possiamo conglobare KS di star in un unico termine TH che si chiama trasmissività idraulica. Siccome K con S ha le dimensioni di metri al secondo e di star ha le dimensioni di una lunghezza, il θ con H, cioè la trasmissività idraulica di questa porzione di suolo, ha le dimensioni di metri quadri al secondo, mentre il gradiente di z è adimensionale, è una lunghezza su una lunghezza adimensionale. Questo rappresenta quello che abbiamo già visto in maniera più complessa, se vogliamo, nella lezione precedente, cioè che la saturazione ortoniana avviene dall'altro, mentre la saturazione duniana abbiamo detto avviene dal basso. In questo caso la differenza della saturazione duniana che vedete rappresentata qui sulla sinistra della saturazione duniana è appunto qual è la porzione di acqua che si muove più velocemente. C'è una domanda? che è quella che si muove più velocemente, che in questo caso è quella rappresentata in azzurrino. Per quanto riguarda la saturazione di tipo duniano, saturation overland flow in inglese, abbiamo detto anche in precedenza che la saturazione di tipo duniano è da considerarsi un processo relativamente lento perché prevede prima la formazione di una falda. Quello che vedete qui rappresentato è un piccolo bacino fluviale in testa con un canale che si è formato, che vedete segnato in nero, tracciate le linee di livello e segnata un tubo di flusso. In questo tubo di flusso l'acqua cade provenendo dall'alto, diciamo, sopra e si muove nella direzione indicata dalle frecce che sono più o meno le direzioni di massima pendenza. Una rappresentazione tridimensionale di questo tubo di flusso è quella che vedete nella figura in basso dove che il tratto di larghezza B è segnato, si viene a formare un tirante superficiale di altezza D e sotto invece c'è del deflusso insaturo. Vedete anche tracciata la dimensione della superficie della falda che ad un certo livello esce dalla superficie del terreno, ma nella parte destra invece è ancora sotto il terreno. Com'è l'equazione di bilancio di massa per questo termine? Allora è scritta in forma sintetica qui sotto. Ci sono due addendi nella prima parte e poi un terzo elemento nel secondo membro dell'equazione. Nel primo membro dell'equazione che cosa compare? Compare Tk che è la trasmissività del terreno saturo in questo caso che è il prodotto dell'altezza del terreno che sarà per esempio H come è segnato per la conducibilità idraulica a saturazione del terreno che sarà un K con S. Questa trasmissività esattamente come nel caso che ho illustrato in precedenza è una quantità che si misura in metri quadri al secondo. Poi c'è il gradiente di Z che anche in questo caso si dovrebbe mettere il gradiente della superficie della falda ma confondiamo in questo caso pensiamo che il gradiente della superficie almeno per quel che riguarda la parte satura del deflusso si possa confondere con quello il gradiente della superficie liquida si possa confondere con il gradiente della superficie topografica quindi mettiamo gradiente, modulo del gradiente di Z per B il secondo addendo invece rappresenta la velocità dell'acqua sulla superficie che sarà una certa UH per lo spessore DH che qui nella figura peraltro è chiamato D piccolo per B sulla destra quindi ho l'acqua che mi esce non dai lati del tubo di flusso perché per definizione dai lati del tubo di flusso non esce nulla tutta l'acqua che esce entra ortogonalmente dall'alto con la pioggia ed eventualmente esce con l'evapotraspirazione ma qui non ne teniamo conto esce solo dalla porzione segnata con la lettera B e quindi la parte che entra di acqua RP dove RP è la precipitazione e AT è l'area della striscia disegnata in grigio allora il flusso è di nuovo velocità apparente per l'area che l'area in questo caso è B per H che vedete rappresentata anche nella figura e la velocità apparente di Darcy è K con S per il gradiente di Z sarebbe stato il gradiente di H il modulo andava a comprendere anche H invece è rimasto solo intorno al simbolo del gradiente e quindi la velocità apparente è K con S e questo quindi spiega il flusso B per H per K con S per il gradiente di H come vi avevo elencato prima e l'espressione del primo addendo H se vogliamo è l'altezza del suolo del suolo idrologicamente attivo questo T con K peraltro che cosa è che in questo modello non sarà cioè la tentazione sarebbe quella di prendere la conducibilità dei suoli misurata in laboratorio di usare questo T con K in questo piccolo modellino che stiamo facendo del movimento dell'acqua nel suolo in realtà qui ha i caratteri di una media spaziale e nel caso in analisi potrebbe essere in realtà diventare poi se volessimo usare questo modellino per fare delle previsioni vere e proprie dovrebbe essere probabilmente un parametro da calibrare, calcolare a posteriori cioè avendo fatto delle misure cercare di assegnare dei valori non tanto dai campioni di conducibilità idraulica e dello spessore di suolo KS per H quindi ma direttamente nel verificare se i risultati che vengono prodotti sono buoni o no che cosa succede in questa sezione? beh, fino a che il sistema non è saturo di H è zero anzi è minore di zero volendo indicando che il suolo non è completamente saturo quando H è uguale a zero non ho quando D con H è uguale a zero scusate non ho nessun sull'uscellamento superficiale ma è il momento in cui ho il suolo ho il suolo completamente saturo il flusso su in questa condizione in cui non ho deflusso superficiale ho solo il suolo che contribuisce al deflusso ho che B per H per KS per il gradiente di H è uguale a TKB per gradiente di Z ho già espresso prima le condizioni in cui questi termini hanno significato quindi dal bilancio di massa che cosa si ottiene? si ottiene l'equazione che vedete rappresentata in alto che ho già spiegato nel dettaglio e che qui nella slide spiego ancora ulteriormente in condizioni stazionarie che cosa significa? questo bilancio è un bilancio stazionario questa era una condizione che avevo scritto un po' dappertutto in precedenza ma che mi ero dimenticato di scrivere cioè in questo caso io ho supposto che tutto quello che entra sotto forma di precipitazione cioè RP per AT mi esca sotto forma di deflusso sia subsuperficiale che superficiale non vi è accumulo non vi è alcun effetto transiente per cui per esempio io accumulo temporaneamente dell'acqua all'interno del mio volume di controllo che poi viene rilasciata nella discussione precedente e nelle simulazioni precedenti in realtà ci sono questi termini di accumulo perché potete se andate a riguardare la dinamica delle simulazioni fatte con un programma complesso che usa Riccia ci sono proprio dei momenti in cui c'è tutta l'acqua per esempio all'interno e poi quest'acqua si ridistribuisce quindi c'è una variazione del contenuto d'acqua all'interno del volume di controllo che qui in questa formula che invece vedete rappresentata non è contemplato la condizione di stazionarietà è tale perché tutto quello che entra esce cioè o meglio non è quello che entra che anche esce generando un bilancio una variazione temporale nulla della variazione di contenuto d'acqua all'interno del volume di controllo però è quanto entra è uguale a quanto esce ma non le stessi volumi di precipitazione ovviamente in queste condizioni nelle condizioni in cui tutto il suolo è pieno ma non ho ancora un tirante di conaca il secondo termine ovviamente è nullo e la condizione che si viene a generare è che Tk è il gradiente della superficie per B uguale a Rp per At allora ho due relazioni limite in particolare se Rp più At cioè la precipitazione è maggiore di Tk di Tk max che in questo caso sarebbe il Tk considerato su tutto lo spessore per il gradiente della per il gradiente della della quota per B allora deve esserci deflusso superficiale la precipitazione è più grande della capacità di svuotare il mio contenitore che in questo caso è un pezzo di versante deve esserci deflusso superficiale nel caso diverso tutto defluisce contrario tutto defluisce all'interno del suolo non ho formazione di deflusso superficiale una cosa interessante in questa formula è che nelle mie semplificazioni ho e nei miei termini ho dei termini che hanno natura idrologica dei termini che hanno natura geometrica in particolare i termini che hanno natura idrologica sono Rp che è la precipitazione e Tk che è la trasmissività idraulica e i termini di natura geometrica sono l'area della mia striscia e il gradiente della superficie che altro non è che la pendenza della superficie se andate bene a ragionare allora potrei pensare di portare c'ho anche un termine un altro termine geometrico che è B che se andate a ricordare che cos'è B B è la sezione su cui io sto considerando il deflusso e se andiamo ancora più su B ha anche un'interpretazione diciamo geomorfologica nel senso che è la lunghezza della linea di livello che intercetta la linea di flusso allora posso pensare di introdurre un grafico di questo tipo in cui metto le pendenze che è il gradiente di z sulle ordinate e il rapporto a T su B sulle ascisse e questa linea che vedete questa queste due disuguaglianze sono rappresentate dalla linea blu sono rappresentati dalla linea blu in cui però nell'espressione ho esplicitato la pendenza nelle due condizioni ho esplicitato la pendenza nei punti in cui la pendenza è minore di a T diviso B per rp su Tk si deriva semplicemente dalle considerazioni che avevamo fatto nelle slide precedenti ho dei punti che in condizioni stazionarie sono saturi dall'altra parte ho dei punti non saturi quindi questa formula è particolarmente divertente o interessante o dà un'indicazione su quali sono i punti che ci saturano prima all'interno di un bacino intanto sono quelli a pendenza minore ma sono quelli soprattutto nei quali la pendenza è minore di di un rapporto che è a T su B che è l'area contribuente diviso la lunghezza della linea di livello che è di natura geometrica per un altro rapporto che è il rapporto fra la precipitazione e la trasmissività idraulica un termine idrologico e un termine puramente geometrico in realtà potrei raggruppare tutti i termini di natura geometrica per esempio in un fattore di tipo A T B diviso gradiente di Z e raggruppare dall'altra parte i termini di natura idrologica cioè che messi a sinistra per esempio diventerebbero TK su RP quando TK su RP è maggiore di AT diviso B per gradiente di Z ho punti non saturi quando è minore ho punti saturi in particolare questo ragionando ancora un po' porta a dire che ho saturazione quando ho basse pendenze oppure grandi aree contribuenti tutto rapportato al concetto però di B alla lunghezza della lunghezza di drenaggio cioè di B che per il momento rimane un po' oscuro direi che ci potremmo fermare qui a questo punto per oggi e andare tutti a mangiare se non ci sono domande